In occasione della sospensione dei lavori dell'Assemblea regionale per la pausa estiva, ad agosto sia l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sia la Biblioteca della Regione, al venerdì, saranno aperti solo al mattino dalle 9 alle 13. Resteranno invece chiusi, come tutte le strutture del Consiglio regionale, da venerdì 16 a domenica 25 agosto. Inoltre, dal 9 al 30 agosto, il Coraco Piemonte sospende le udienze.